Sì, è vero. Grazie. Ma non è che torniamo a Inca? Inca ma c'è di solo! Sei arrivato! Guarda che piano! Dai ci siamo! Sei venire a come vato la piscera? Perché sì? Perchè guarda le vite? Dobbiamo da! Sì... Sì... Ah! Stai ad inquadratta! Stai a ribadire! Sì! Li areori! Sì! Li dobi! Noi! Questa è la prima cosa che cosa succede? Noi! Non si deve! Non c'è un paese! Non c'è un'unità! Non c'è un paese! Noi abbiamo anche capito! Grazie a tutti. Grazie a tutti.